La Banca del Tempo del Canavese La Banca del Tempo del Canavese In cambio, la persona che ha ricevuto la spesa rilascerà un'ora del suo tempo, che varrà depositata nella banca e che ha fatto la spesa potrà utilizzarla per il tempo impiegato da qualcun altro. Le attività offerte vengono continuamente aggiornate in base alla disponibilità dei nuovi iscritti. La Banca del Tempo del Canavese è disponibile a fare rete e avviare progetti anche con le scuole ed enti che lavorano nell'ambito del sociale. Si potranno inoltre proporre corsi e incontri su varie tematiche. L'associazione si rivolge non solo ai cittadini di Rivarolo, ma a tutti gli abitanti del Canavese. La Banca del Tempo di cosa si tratta? È una banca dove anziché depositare denaro si deposita il proprio tempo. Quindi la ricchezza non è nel denaro, ma nella singola persona, nei valori e nelle cose che lei può dare. Oggi viene inaugurata e presentata l'apertura della Banca del Tempo per Rivarolo e Canavese. Sì, per Rivarolo e Canavese. Il Canavese, infatti, abbiamo chiamato la Banca del Tempo del Canavese proprio per la possibilità a tutti quanti gli abitanti del Canavese di poter aderire alla nostra associazione. Perché la nostra forza è nella quantità delle persone che possono accedervi. Cioè se siamo in pochi abbiamo meno possibilità di fare scambi. Se siamo in tanti abbiamo più possibilità di fare scambi, di cose diverse. Per la nostra ricchezza è proprio anche la diversità delle offerte che si possono avere e dare. Verranno realizzate anche degli eventi? Sicuramente, sì. Questo progrederemo degli eventi, delle serate. Siamo impianti a nascere e poi piano piano approfondiremo anche questo aspetto. Grazie.